E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'anziano ottantenne picchiato, cosparso di benzina e bruciato vivo da un gruppo di giovani nella sua abitazione di Siracusa. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro e si trova al momento in gravissime condizioni. Non si conoscono i motivi alla base del folle gesto, ma secondo indiscrezioni non si tratterebbe del primo episodio di violenza e danni dell'anziano.